Ben trovati all'appuntamento con la rubrica dedicata ai principali cantieri attivi questa settimana in campagna. Sulla 2 del Mediterraneo sino al 12 gennaio il restringimento di carreggiata nel tratto compreso tra le uscite Eboli e Battipaia in direzione Fisciano. Sul raccordo autostradale di Benevento fino al 29 dicembre per lavori al cavalcavia che sovrasta la 16 Napoli-Canosa nei pressi di Venticano, scambio di carreggiata nel tratto compreso tra il casello di Benevento della 16 Napoli-Canosa e lo svincolo Castello del Lago in direzione Benevento. Sulla strada statale 7 Appia sino al 3 febbraio per interventi di manutenzione senso unico alternato in località Venticano in provincia di Avellino. Sulla strada statale 19 delle Calabrie fino al 30 dicembre senso unico alternato nel tratto compreso tra Casalbuono e l'innesto con la strada statale 585 Fondo Valle del Noce in tratti saltuari. Sulla strada statale 372 Telesina sino al 30 dicembre senso unico alternato in tratti saltuari tra le uscite al Vignano e Gioia Sannitica in provincia di Caserta. Sulla strada statale 145 Sorrentina sino al 6 gennaio per le festività natalizie sono sospesi i lavori sul viadotto San Marco che determinavano la chiusura del tratto compreso tra le uscite ai Castellammare Ospedale e Castellammare Villa Cimmino in entrambi i sensi di percorrenza. È tutto grazie per l'attenzione.